Assessore Marconi, in giunta è stato approvato il bilancio di previsione del 2023, quali sono le novità? Innanzitutto la tassazione che è rimasta invariata, un bilancio che prevede investimenti importantissimi per circa 9 milioni e mezzo sul nostro territorio che riguarderanno dalle ristrutturazioni delle scuole esistenti, alla messa in sicurezza e tombatura della discarica comunale, al rifacimento di alcune strutture al paese come ad esempio la casa comunale, la torre dell'orologio, la nuova piazza e tra l'altro con le risorse che abbiamo recuperato dal fondo di solidarietà comunale, circa 2 milioni, andremo a realizzare la piazza al centro di Tortoreto, quindi sullo slargo Marconi, su quell'area lì, verrà realizzata una nuova piazza che dovrà rappresentare il centro di Tortoreto. Naturalmente questo è l'inizio della progettualità che dovrà riguardare tutto il lungomare.